Ebbene ragazzi, volevo lasciare il video come shorts, ma non posso farlo, non posso assolutamente farlo, devo caricarvelo assolutamente come video in orizzontale. Quindi ragazzi, ascoltate qua che cosa dice Nicola Salici a una persona che lo attacca. Quindi è un suo haters in parole povere. Tutto questo dopo il dissing col Brasile, il dissing che lo ha arresto ovviamente, un personaggio pubblico a 360 gradi e secondo me è convenuto anche un po' il Brasile. Per cui ragazzi, ascoltate cosa dice Nicola Salici, ma prima iscrivetevi nel canale e attivate la campanellina delle notizie. Ah, e poi ci sono quelli come lui che non vedono l'ora, anzi, non andate sul suo profilo perché tanto sto in privato, professoressa! Ah, Nicola Flex sta copiando dal Brasile! Non andate a seguirlo! Non è giusto! Ma a te, e come a te tanti altri, ma cosa vi cambia se un ragazzo è più bravo di voi nell'utilizzare un social e si crea un seguito? Perché questa frustrazione? Perché questa gelosia? Ma io al tuo posto direi, cazzo, guarda che fumo, ragazzi, andiamo tutti a vedere nel profilo del Flex, magari non ci vado, ma non faccio la figura del gelosone. Tu sei uno di quelli che va dalle ragazze e parla male degli altri uomini per arrivare lui all'uva, solo che c'è il pistolino e non ci arrivi!